Le grotte di Stiff sono le uniche grotte attive turisticamente aperte e presenti in Italia, dove internamente ad esse c'è un fiume che lo percorre per tutto quanto il percorso. Oltre alle stalattiti, stalagmiti, colonne e colate, quindi i diversi tipi di concrezioni, ci sono internamente alle grotte di Stiff anche due bellissime cascate che sono all'incirca 20 metri e lo spettacolo è sicuramente unico dovuto appunto alla presenza dell'acqua che cambia oltretutto di portata in estate e in inverno. Perché questi luoghi? Io in parte la chiamo l'Isola Felice perché siamo immersi nel verde, siamo tra il Sirente Verino e il Gran Sasso, siamo a due passi dal mare. Qui ci sono delle piccole comunità, dei piccoli paesi che comunque ti danno la sensazione di appartenenza, di unicità e soprattutto la tranquillità di vivere in mezzo al verde e come si dice, la sensazione di essere a casa, sempre e comunque.